Dovevi sapere che questi ragazzi ti vogliono un sacco bene, perché ci tenevano a fare questo momento di incontro con te, quindi questo sentiti in famiglia, Milano è una casa che ti aspetta sempre a porte aperte, io rappresento Libera, ma Libera con la sua rete, stampo, la mafia, il presidio universitario, tra quei nomi c'è anche Pippo Fave e tanti giornalisti che sono stati uccisi dalla prepotenza e dalla violenza mafiosa, perché raccontavano le cose come stavano. Il nostro paese non sta bene, le mafie stanno molto in forma, ma soprattutto stanno in forma perché trovano persone con cui fare affari, trovano porte aperte, trovano compromessi e avere il coraggio di raccontare le cose come sono, tu Riccardo continua a farlo e lo fai da tantissimi anni, credo che sia un valore importante per raccontare la verità del nostro paese, che spesso la politica è un po' distratta, ci racconta verità parziali, quindi io ti ringrazio di un impegno, di una passione mai stanca che non è scontata, a volte la disillusione di tante battaglie che magari desideravi diverse, tipo far demordere quella voglia di andare avanti, tu la conservi e questa voglia e questa passione mi auguro che arrivi a tutti i giovani perché insegnare il coraggio, insegnare proprio dalla tua vita. Pippo Fava è uno dei nomi che leggeremo il 21 marzo, una giornata importante perché veramente racconta le storie di persone che ci hanno messo la faccia, la voce e la penna. Siamo contenti di questo momento insieme, quindi a voi ragazzi e a te soprattutto Riccardo la parola.